Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti ancora sul mio canale. Questo sarà un video tag nel quale sono stato taggato da Angela. Angela un abbraccio, ti voglio bene, chiudo. Dunque, il tag si intitola 10 libri che mi piacerebbe vedere al cinema, quindi che vorrei in qualche modo venissero traslati su pellicola. Prima di iniziare volevo fare un paio di saluti. Mi collego ad Angela e capirete il perché. Allora, il primo saluto va a The Lady of Boc. The Lady of Boc è una... The Lady of Bocs. Sì, The Lady of Bocs. È una ragazza fantastica, romana, se non sbaglio. Fa dei video molto particolari perché non si vede lei inquadrata, ma si vede inquadrato soltanto il libro su uno sfondo. Sono video molto, molto... sono divertenti. Sono profondi, si ride, si scherza, ma nello stesso tempo si ragiona. Sono video... semplici. Sono video onesti, ma di grande profondità. E The Lady of Bocs è una ragazza che ho imparato a conoscere, ad apprezzare il salotto di Angela. Voi sapete che sul canale, e se non lo sapete, sappiatelo, che se andate sul canale di Angela Cannucciari, c'è un salotto. È aperto tutti, entro io, quindi se non entrate voi. E lì si può fare un po' quello che si vuole. L'importante è portarla a mangiare, anche solo virtualmente. L'unico dettaglio, l'unica accortezza è nel momento in cui decidete di portare tipo pizzette o focaccia o cose del genere, mi raccomando, senza glutine. Poi ci si trova, si ride e si scherza, e con The Lady of Bocs abbiamo riso e scherzato tantissimo, quindi la saluto e l'abbraccio. È una persona molto divertente. E poi saluto Andrea. Dite, chi è Andrea? Andrea è il marito di Angela. Dunque, io non conosco Andrea. Andrea conosce me, perché pare che io sia uno dei pochi booktubers, che poi è booktuber, io faccio un po' di cacciara, ma uno dei è che Andrea segue. Andrea, l'ho detto, è il marito di Angela, sì. Quindi non lo conosco, ma giacché è marito di Angela, cioè parliamo di Angela, no? Quindi non è che passa il primo Andrea e Angela lo tiro su, no? Quindi se è marito di Angela, è uno degno del mio totale rispetto e della mia totale amicizia. Quindi un abbraccio a te Andrea. Complimenti per la moglie. Poi ho un altro saluto, apro e chiudo parentesi, e vi voglio salutare Alessandro Villa, che è un ragazzo che ho conosciuto qui su YouTube, un ragazzo molto profondo, un ragazzo con una storia o intuito particolare alle spalle e una bella persona, mi ha scritto le cose molto belle e quindi un saluto anche ad Alessandro. Lui non c'entrava con Angela, però... Alessandro, la brutta ci troviamo sul canale di Angela nel suo salotto, quindi c'entrerai anche tu con Angela. Allora, partiamo. Dieci libri. Allora, il primo libro è questo, di Thomas Green, Invidiosa Luna. Questo è un libro a me piaciuto tantissimo. L'avevo letto... Intanto qua mi vibra il telefono. Aspettate, eh. Questa mi sa che è Angela, è infatti. Vedi Angela? Tiè, guarda. No, non faccio vedere perché si vede il numero. No, non si vede il numero. Comunque c'è Angela, Valentina. E ormai siamo diventati amici, ma è quello che speravo, ma non osavo credere da YouTube. Ed ho ottenuto la cosa più bella. Queste sono le mie vittorie. Ho vinto Angela, Valentina. Ah, Vale, ciao, non ti saluto mai, eh. Scusa, ciao, Vale. Giordi. Siamo un bel gruppo d'amici, no? Ed è una cosa bellissima. Bella, 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 bella. Alessandro, Andrea, un gruppone, no? Sempre più largo. Poi saluto Sabrina, saluto Valentina, l'altra. Quella di Bukagdittid, un'altra ragazza fantastica. Ne parliamo dopo di loro. Dunque, questo libro l'ho letto. L'ho letto nel 2007, esatto. Ed è un libro molto bello, che parla di amore, fondamentalmente, tra due ragazzi. Un amore... Non voglio dire una parola perché altrimenti spoiler. Allora, diciamo che è una storia d'amore non... Avevo in mente un paragone con un autore, ma se vi dico una storia alla prima maniera, quel sta per l'autore, capite il genere. È una bella storia d'amore, ecco, tra due ragazzi. È un romanzo che lascia tanto. L'ho letto anni e anni fa, ma me lo ricordo, come se l'avessi letto ieri. Ed è una bellissima edizione in quelle prime, se vi ricordate, della Frassinelli, di quelle vecchie, con questa sovracoperta un po' ruvida, con il segnalibro in tessuto. È una bellissima edizione. Secondo libro, Figlia del silenzio, di Kim Edwards. È questo libro molto, molto, molto pesante, nel senso che parla di due fratelli. Un fratello ha più fortuna dell'altro, anzi dell'altra. È una storia di famiglia, di essere genitori. Io l'ho letto quando ero abbastanza ragazzino. È un libro di qualche anno fa, l'avrò letto, avrò avuto 18 anni, credo. Attratto dalla copertina, perché mi ispirava... Credevo fosse una storia di fantasmi, no? Vedete questa giacchetta che flutto. Quindi mi aspettavo altro, in realtà. Poi ho letto la seconda di copertina, ho letto alcuni commenti, tra cui questo, per esempio, del Washington Post, che dice, Chiunque rimarrà profondamente colpito da questo libro possiede una forza prodigiosa, è capace di commuovere ed emozionare, non perdetelo, e da qui altre. Chiunque rimarrà profondamente colpito, ed è vero. Questo l'ho consigliato a varie persone, queste varie persone hanno detto, sì, un bel libro, quindi ve lo consiglio, e mi piacerebbe vederlo al cinema. Sarebbe un bel film di quelli belli, importanti, ma belli, profondamente. importanti dal punto di vista del contenuto. Poi, Il potere del numero 6, di Titacus Lore. Questo è il secondo libro di una saga di uno, due, tre, quattro, cinque, sei libri, mi pare. Una saga bellissima. Al cinema in DVD trovate Io sono il numero 4, che è il primo della serie, ma a me piacerebbe che, ho preso questo, ma avrei dovuto prendere tutti i miei, degli altri, perché vorrei tanto, 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 che questa saga venisse portata completamente al cinema, perché merita. È una storia d'alieni, è una storia d'amicizia. Vi parlerò di questi libri, perché quando finirò di leggere l'ultimo capitolo, che è uscito da poco, poi vi racconterò la saga, perché merita. e al cinema secondo me avrebbe tanto da dare, ma... La casa degli angeli di Colleen McCullough. Questo è un libro... è un libro complicato, nel senso che è un libro... non è la classica storia, è un libro... lo definirei quasi da meditazione, perché ci sono tanti personaggi, questi personaggi si intrecciano, si modificano incrociandosi, ci sono tante traiettorie di vita, che ruotano fondamentalmente intorno a una figura importante, di questa matrona, di questo protagonista femminile tratteggiato, secondo me, in modo assolutamente fantastico. è una storia di crescita, di scoperta, è una storia di... evoluzione, direi anche, umana e... come potrei dire, di... cambi con i personaggi, cioè il personaggio evolve e tu evolvi con loro, perché impari a cambiare punto di vista sulle cose. È un romanzo profondo, non è semplice, è un romanzo... io l'avevo letto in estate, tra l'altro, e lo so perché... eh... ora vi faccio vedere una cosa, intanto vi racconto, eh... l'ho letto in... eccolo qua, perché ho segnato, vedete, primo bagno nel lago, 12 luglio 2012, alle ore 19, ho noto tutto, eh? Queste cose qua sono imbattibili, che giorno era? Era un giovedì, e... quindi probabilmente non è stato il momento migliore per leggerlo, perché è un libro, secondo me, da leggere nei primi freddi, no? Quindi verso ottobre-novembre, però mi è comunque piaciuto tanto, nonostante appunto l'ambientazione così... diciamo, in estate a me piace leggere libri ancora più leggeri di quelli che leggo di solito, no? ehm... però... la... diciamo la... ho stoppato, mi è arrivata una chiamata, rispondo dopo, però l'ho apprezzato appunto nonostante la voglia di leggerezza che c'è in estate, quindi se lo leggete in inverno o in autunno lo apprezzerete ancora di più, e al cinema ovviamente ci sarebbe grandissimamente bene, secondo me. Grandissimamente, che ne dite di sta parola? Questa volta Tocca a te di M.J. Arridge, questo è un libro meraviglioso, tensione, un thriller, parla di un... sì, beh, si scopre quasi subito, quindi un... o no? Boh, di un, tra virgolette, psicopatico, ve lascio il dubbio, perché penso che si scopra qualcosa in più sulla... sull'identità non nelle primissime pagine, quindi non voglio rovinarvi il gusto della lettura qualora non l'abbiate già affrontata, comunque questo pazzo che rapisce coppie che sono fidanzati, amici, colleghi di lavoro, piuttosto che madre e figlia e da loro la possibilità di salvarsi a patto che uno uccida l'altro, quindi l'assassino dei due sarà poi quello che sopravviverà e secondo me al cinema avrebbe un grandissimo successo, sono i classici bei thriller americani che tengono col fiato sospeso, questo tra l'altro anche come thriller, come libro a me è piaciuto veramente, veramente un sacco, quindi ve lo consiglio e vi consiglio anche di appunto no mi sto bloccando scusate perché sono dieci minuti in realtà ho fatto pochissimi libri quindi stopperò il video quindi lo dividerò in due parti perché mi sono perso nella prima parte perché se no mi ci mette ci va troppo a caricare ci mette troppo tempo youtube a caricarlo quindi stoppo qua il video su questo libro questa volta tocca a te finisco quello che stavo dicendo semplicemente è un thriller che tiene incollato le pagine e credo che anche al cinema ovviamente potrebbe fare la stessa identica cosa allora stoppo qui per il momento quindi questa sarà fine prima parte qui dietro ho il gli altri libri di cui voglio parlare quindi stoppo questo video e ci vediamo nel video successivo a tra poco